E' stato siglato un importante accordo tra Banca dell'Adriatico, istituto di credito del gruppo Intesa San Paolo, e Confindustria Pescara per favorire la ripresa delle piccole e medie imprese. Promosse una serie di iniziative che vanno dall'estensione degli strumenti già previsti in ambito nazionale dalla moratoria su mutuo e leasing, al finanziamento per il rafforzamento patrimoniale, fino al sostegno del capitale circolante. La soddisfazione nelle parole di Enrico Marramiero, presidente di piccola e media industria di Confindustria Pescara. E' fondamentale in un momento di crisi che si abbattino le barriere e ci sia collaborazione, quindi un sostegno reciproco perché le banche sono delle imprese che devono investire in aziende sane e dall'altra parte le aziende sane devono avere gli strumenti che gli istituti finanziari gli possono offrire per poter superare questo periodo di difficoltà e crescere nel tempo. Banca dell'Adriatico conta 231 sportelli dislocati tra Marche, Abruzzo e Molise e rappresenta il più importante istituto di credito regionale. Siamo costretti a sviluppare il territorio. Se non si sviluppa il territorio non riusciamo a sviluppare noi. Tutto ciò che raccogliamo su questi territori noi lo reinvestiamo su questi territori, non lo portiamo da altre parti, proprio perché abbiamo la necessità che l'Abruzzo, piuttosto che le Marche, piuttosto che il Molise, abbiano la possibilità di sviluppare. Per poter sviluppare, crescere in fretta, oggi abbiamo la necessità che ci siano anche delle politiche economiche a livello governativo importanti, a livello di infrastrutture. Grazie. 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 Grazie.